Tre mozioni e un ordine del giorno sul tema dell'utilizzo del CSS, combustibile solido secondario nelle cementerie di Gubbio. Era il punto nodale di un atteso consiglio comunale, svoltosi anche oggi su piattaforma interattiva. Una seduta che dopo le interpellanze iniziali ha privilegiato la discussione dei quattro documenti, uno dei quali era già stato vagliato in sede di commissione consigliare, dove sul tavolo era approdato l'ordine del giorno a firma del consigliere di opposizione Goracci, testo votato dal sol ex sindaco e su cui si sono astenuti tutti gli altri da maggioranza opposizione. Proprio Goracci ha aperto il capitolo degli interventi sul tema, ribadendo il suo netto no all'ipotesi delle CSS, paventato fin dal mese di febbraio e chiedendo al sindaco di intervenire al di là delle sue specifiche competenze e di privilegiare in un eventuale testo condiviso il tema prioritario della salute. Due mozioni sono poi giunte dal centrodestra, quello civico con Marzio Presciutti Cinti, che partendo dal quadro critico della gestione rifiuti in Umbria, con il 40% ancora oggi conferito in discarica e sulle condizioni precarie delle discariche, a partire da quella di Colognola, chiede di indire la costituzione di un tavolo tecnico, pubblico e ampiamente partecipato, che formogli una nuova politica di gestione dei rifiuti basata sulle migliori e più moderne pratiche. Dalla sua il gruppo della Lega con Pascolini, premettendo che la richiesta dei cementifici nulla a che vedere con il piano dei rifiuti della Regione, ha chiesto alla Giunta e dal Sindaco di aprire un tavolo di confronto con gli uffici tecnici della Regione, che hanno preso in carica la richiesta inoltrata dalle cementerie o gubbine, perché l'eventuale risposta positiva rilasciata dai tecnici sia dettata esclusivamente dal miglioramento delle condizioni dello Stato e dell'area della città. Infine la mozione sottoscritta dalla maggioranza consigliare, LED, scelgo gubbio e socialisti, con la firma anche di PD e Movimento 5 Stelle dall'opposizione. No all'incenerimento del CSS in qualsiasi forma per la chiusura del ciclo dei rifiuti in Umbria, da questa premessa in relazione alla richiesta delle due cementerie, considerando il fatto che è dettata da esigenze di natura aziendale dovute al mutato contesto normativo europeo in tema di emissioni e quota di CO2, la cui negazione potrebbe avere ricadute negative su attività e occupazione. La mozione impegna la Giunta a sollecitare la Regione ad una chiara inequivocabile presa di posizione e chiede che il Comune di Gubbio venga direttamente coinvolto come parte attiva in tutti i passaggi cruciali della vicenda autorizzativa e punta a chiedere dati e informazioni dettagliate agli enti di controllo e a chiunque possa fornire un contributo efficace in termini di approfondimento di tutti gli aspetti connessi alla complessa tematica in oggetto.